Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo di uno dei volumi della serie dei classici Disney i nuovi classici d'autore Disney siamo arrivati al numero 20 e appunto parleremo della serie dei Mercoledì di Pippo ogni inevitabile mercoledì a cura di Rudy Salvagnini che è proprio l'autore di questa magnifica serie ma ovviamente ragazzi ne parleremo meglio dopo la sigla eccoci qui dunque con questo nuovo volume dei classici successore del numero speciale dedicato a Fantomis questo riprende la numerazione classica quindi vediamo la costina verde con il numero 20 ogni inevitabile mercoledì tornano le avventure letterarie scritte da Rudy Salvagnini il creatore della serie con questa splendida copertina disegnata da Stefano Zanchi e colorata da Mario Perrotta iniziamo subito a guardare il sommario ragazzi qui abbiamo un editoriale sempre di Alex Bertani il direttore che dice che ci teneva tanto a far ritornare in auge a questa serie così come è stato fatto l'anno scorso con le Top Stories e qui vedremo la Framestory la storia di intermezzo tra una storia e l'altra tra una storia e l'altra creata da appunto Rudy Salvagnini che porterà all'epilogo di questa serie ma ciò non toglie che su Tomolino non possano uscire nuove storie dei mercoledì di Pippo ovviamente grazie al fatto che non c'è un arco temporale insomma è come per le storie di Top Stories nelle baule di The Tops esistono vari diari anche qui ci sono vari altri romanzi che ha scritto Pippo e quindi vedremo che ne usciranno altre di storie anche grazie all'epilogo che appunto non chiude completamente le porte a questa fantastica serie quindi appunto vediamo tutte le storie ovvero In viaggio nel tempo Il mistero del talco con Mosso di Rodi Il cavaliere infallibile, il libero della ricchezza e il cavaliere quasi solitario qui abbiamo una raccolta delle storie più incisive selezionate appunto da Salvagnini non è una omnia completa perché l'omnia completa ragazzi è uscita con la Legendary Collection appunto abbiamo il volume 1, 2, 3, 4, 5, 6 un po' più cicciotti che sono esattamente il doppio del volume 1 e qui vediamo appunto che in questo volume c'è la prima vera storia ovvero Pippo il Giallo a Premi nata come singola storia ed è da qui che è iniziato tutto ma appunto questa è un'altra storia noi soffermiamoci a parlare di questo volume che secondo me diventerà raro anche questo visto che tutti i volumi dei classici stanno diventando rari iniziamo appunto subito con la storia di raccordo dove vediamo appunto Topolino che parla con Minnie del fatto che insomma viene costretto tra virgolette da Pippo ad assistere ad andare ad ascoltare tutti i mercoledì appunto i gialli che Pippo scrive solo che Topolino è troppo pignolo e non piace l'illogica di Pippo e qui vediamo appunto tutti i vari stratagemi che Topolino userà appunto nella storia di intermezzo qui vediamo In viaggio del tempo storia uscita originariamente sul Topolino 2045 del febbraio 1995 una storia molto particolare dove appunto vediamo un Pippo scienziato che ha creato una macchina del tempo stile appunto la macchina del tempo di Giulio Verne infatti ambientato sembrerebbe fino a 800 inizio a 900 da come sono vestiti e poi qui Topolino ovviamente punzecchia Pippo nella realtà dicendogli anche che loro hanno viaggiato davvero nel tempo grazie alla macchina del tempo di Zapotec e Merlin quindi tutte queste teorie assurde che sta inserendo nel romanzo non hanno senso di esistere però vedremo che Pippo riuscirà a smontare ogni volta il buon Topolino la peculiarità delle storie dei mercoledì di Pippo è che l'eroe protagonista in questo caso è sempre Pippo mentre Topolino è la sua spalla che buffa, comica, protagonista appunto delle scenette delle gag che fanno ridere all'interno della storia che è sempre diciamo la macchietta di ogni storia che esce perché appunto stravolge la realtà dei fatti mentre nella realtà Topolino è infallibile in questo caso no e ci volevano a mio modo di vedere i mercoledì di Pippo per far diventare un po' più umano Topolino visto che di solito è sempre il personaggio infallibile qui abbiamo il mistero del talco questo è un giallo molto particolare dove vediamo questa vignetta che mi fa morire e lo sguardo penetrante di Pippo che fa rompere gli specchi addirittura questa storia è uscita sul Topolino 2075 del 5 settembre 95 sempre lui di Salvagnini e Lino Corlero è davvero molto molto bella come storia però arriviamo tra poco alla storia che più mi è piaciuta di sempre dei mercoledì di Pippo ovvero con l'osso di Rodi questa è uscita la ricordo benissimo sul Topolino dell'epoca quando l'Alessi Topolino 2102 del 12 marzo 96 e qui vediamo questo Pippo simile a Ercole con dei poteri degni di un dio che praticamente deve aiutare gli abitanti qui della della Grecia antica e vediamo questa cosa che mi faceva sempre tanto ridere che siccome appunto questo signore dice a Pippo come Possenteroe mi sembri un buon bingerlino lui dice che per vedere i muscoli basta premere questo pulsante e lui gli chiede perché perché li tira fuori e solo quando servono perché non hai idea di quanta fatica si faccia portandosi addosso queste masse muscolari ed è davvero davvero divertente come gag mi piace davvero molto vediamo vediamo qui veramente i disegni sono spettacolari e qui c'è un aneddoto del disegnatore Gorlero qui che praticamente in questa tavola manda niente poco di meno che a quel paese la vecchia direttrice di Topolino dell'epoca se non sbaglio si è un aneddoto sul sito del paper sera e non è stata censurata nemmeno in questo momento quindi se riuscite a leggere se mettete pausa si legge un c'è il nome della signora adesso non mi ricordo come si chiama pigiatelo in insomma proseguite voi andiamo avanti con il cavaliere infallibile questa non l'ho mai letta questa storia è dell'8 novembre 94 sul Topolino 2032 quindi questa me la sono persa all'epoca e anche questa insomma classico stile mercoledì di Peppo Peppo è un cavaliere appunto infallibile mentre Topolino è il suo scudiero davvero molto divertente e particolare davvero attualissima come storia ragazzi divertentissima da leggere poi mi direte e poi abbiamo il libro della ricchezza questa qui è del 95 con Massimo De Vita ai disegni infatti lo vediamo subito lo stile di De Vita e qui c'è un Peppo esploratore guarda c'è De Vita di Metz c'è un Peppo esploratore anche questa molto particolare come storia si respira una trama degna delle storie di Indiana Peeps davvero davvero molto molto divertente e qui abbiamo l'ultima storia il cavaliere quasi solitario disegnata questa da Silvio Gamboni Silvio Gamboni un'eccellenza italiana che adesso lavora più che altro per la Glenard insomma per l'estero però all'epoca disegnava anche su Topolino e questo è un western ragazzi quindi possiamo notare che tutte le storie hanno un genere diverso partiamo appunto dall'avventura western dall'avventura classica la cercatura di tesori di gialli davvero più ne ha più ne metta è una serie che a me ha divertito tantissimo negli anni e spero che le nuove eleve insomma possano divertirsi come mi sono divertito io quindi questo volume lo approvo pienamente ero felicissimo quando l'hanno annunciato e adesso che l'ho letto vi posso dire che merita davvero molto poi vediamo l'anticipazione del prossimo numero ovvero why fantastici e come evitarli e questo numero sarà curato da Silvia Ziche sia per la selezione delle storie che per la storia di raccordo dal 10 ottobre in edicola e poi abbiamo la pubblicità della sua pernavila ovviamente ragazzi questo era i classici Disney l'autore Disney numero 20 fatemi sapere se l'avete acquistato e cosa ne pensate io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao